È spettacolare, Filippo gana con il secondo luogo in Sanremo. Ieri mi ha dato subito grande fiducia, i ragazzi sono stati impaticabili, quindi devo dire grazie anche a loro. Hai risposto all'attacco di Taddei sul Poggio con grande risposta e poi quando è partito Matteo? Quando è partito Matteo l'avete visto, è andato via, è andato forte. Ho fatto il massimo che potevo, avevo quel feeling di dire provaci a seguirlo, però non sapevo neanche io come avrebbero reggito le mie gambe la prima volta che mi trovo in questa situazione. Quanto fa bene questo secondo posto al ciclismo italiano? Non lo so, fa bene a me, però fa anche tanto male contemporaneamente. che fu Matthew Van Der Poel. E la sorpresa del dia, incredibilmente, qui se iba a imaginar, tío, che Filippo gana, se iba a quedar con il secondo luogo, che se lo iba a arrebatare a Wout Van Aert e che se lo iba a arrebatare a Taddei Pogacar. Bueno, così è, crealo, Filippo gana, è il secondo luogo in la milanza in remo e Wout Van Aert e il tercera. E è che, hubo un ataque, un ataque, non è un ataque, è un hachazo, un hachazo per la espalda, il che lancò Taddei Pogacar. Primeramente puso a lavorare su gregario, desgastò tutto, destrozò tutto il pelotone e quando arranca Taddei Pogacar, è un bel reguero per tutti i due, reguero di ciclista, però questi chicos guapos le aguantaron il ataque a Taddei Pogacar, resistirono, così è. Bueno, e già quando Taddei Pogacar atacò, eh, che già se nivelaron o se calmaron a Zawa, arranca enseguida, le sacò tutto il aire a Taddei Pogacar, Matthew Van Der Poel, perché a lo che si accabò il ataque di Pogacar, enseguida arranca a lui, meglio dicho, non lo dejò reposar, non lo dejò descansar, eh, a Pogacar, ni a Filippo gana, ni a Wout Van Aert, sino que enseguida reventò, come una yegua sueca, come una yegua, Matthew Van Der Poel, e non lo pudieron alcanzar, ya se quedaron entonces, Filippo gana, Wout Van Aert, Taddei Pogacar, ahi entre los tres iban a definir il secondo lugar, e, e incredibilmente, se lo llevò Filippo gana, il italiano. Bueno, estas fueron las palabras, del que se llevò il secondo lugar, Filippo gana.